Tra i suoi prossimi traguardi la maturità scientifica, ma intanto è reduce dalla medaglia di bronzo ai campionati assoluti italiani di scherma a squadre Benedetta Fusetti, 19 anni, giovane sciabolatrice, padovana, atleta delle fiamme gialle, ricevuta dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Michele Esposito. È appuntato in servizio a Padova anche il suo maestro d'armi, Alberto Pellegrini, giovanissima vantaggia un ricco palmaresse Benedetta che nel 2019 ha vinto il titolo italiano Under 17 di scherma e conquistato il bronzo di categoria nei campionati mondiali svolti in Polonia. Un vizio di famiglia per Benedetta che la passione per questa disciplina l'ha trasmessa alle tre sorelle Carlotta, Vittoria e Diletta.